Musica Quello che state ascoltando E adesso è il poeta Al suo funerale E Moravia Non soltanto per la crudentata La progettata Ma perché Non riuscita Di rintrattare il senso Il significato E noi siamo due uomini Vogliamo che le cose Significino qualche cosa Che non siano slegate, assurde Niente Senza una voce, senza un messaggio Abbiamo detto che è tutto un poeta E il poeta Ce ne sono tanti nel mondo Ne ho fatto contatto con un secolo Quando sarà finito questo secolo Pasolini sarà tra i pochissimi Che porteranno la sua guerra Era Moravia Nel giorno del funerale di Pasolini Come diceva abbiamo perso un poeta Sono davvero felice di condividere Questo bel momento di presentazione Di questa mostra Su un uomo Con un grande valore E un grande espessore culturale Uno dei personaggi Più importanti della nostra storia contemporanea E un personaggio che ha fatto parlare molto Un personaggio che mi avviso E ancora di grandissima attualità Perché Andava un po' controcorrente Ed è stato come dire Un importante scrittore Poeta Perché no? Anche politico Perché affrontava Molti temi che Ripeto A mio avviso sono ancora oggi Soprattutto oggi Di grandissima Poeta Sono felice di Ospitare qui a Palazzo Locale Questa mostra Perché sicuramente Potrà Raccontare Al meglio Il personaggio Per dare la possibilità Ai nostri ragazzi Di conoscere Pietro Paolo Pasolini Credo che È importante Per il territorio Della provincia Ospitare Questa nostra Sono Appena Mi è stata Proposta Questa opportunità Favorevolmente Abbiamo dato La massima Collaborazione Per questo Salute Il professor Piemontese Mi ha mandato Il messaggio Domenico Rizzi Che purtroppo Per impegni Non è potuto esserci Gli altri Organizzatori Di questo evento Io sono sicuro Che avrà Un grande risponto Di scelto E quindi Che dire Grazie a voi Ma soprattutto Grazie A Pierpaolo Pasolini Che ci ha presi Un po' tutti Uomini Liberi E uomini Che possono guardare Al futuro Con speranza Quindi Io sono davvero contento E condivido Appieno Per questa iniziativa Che ci rende Tutti orgogliosi Grazie Applausi Allora Sapendo Sapendo che Pierpaolo Pasolini E' un intellettuale Molto versabile Che Credo che oggi Vada Riscoperto Reinterpretato Perché Le condizioni Della sua epoca Sono sicuramente Differenti Da quelle di oggi Passo la parola Adesso Al professor Gianfranco Piemontese E rappresentante Della fondazione Cimini Ciao Buongiorno E grazie Per questa Vostra presenza La fondazione Dei Monti Uniti Di Foglia Di cui vennerò Far parte Purtroppo Il presidente Il professor Di Busto Non è potuto Venire Ha accolto E sostenuto Con convinzione Queste iniziativa Perché Perché Come è stato Già accennato Pierpaolo Pasolini E' stato Ed è Uno dei massimi Intellettuali Del ventesimo secolo Io Per quanto mi riguarda Personalmente Ho potuto Apprezzarmi Le liriche Anche Molte Delle sue Produzioni Cinematografiche Che Sono state Di vario genere Ma Io ho apprezzato Molto Anche La Diciamo La cinematografia Legata Al mondo Dei classici Della tragedia Greca Detto questo La fondazione Dei Monti Uniti Dicevo Ha sostenuto Questo progetto E ritiene Veramente importante Perché Forse Per la mia Generazione E qualche Generazione Prima C'è una Conoscenza Dello scrittore Del poeta Dell'intellettuale Dell'uomo Anche politico Di Paolo Pasolini Ma purtroppo E Beniano Diceva prima Il curatore Di questa mostra Beniano Di Logallo Paradossalmente Nel centenario Della nascita Di Pasolini Nessuno Al ministero Che purtroppo Non si chiama più Della pubblica istituzione Ha pensato Di Inserirlo Tra le possibili tracce Degli esami Di Stato E questo Ci fa capire Come sia invece Molto necessario Quello che Oggi La provincia Ospita Qui Affinché Non si perda La memoria E il ricordo Di uomini Che hanno In questo caso Pagato Con la propria vita L'affermazione Dei diritti Anche di libertà La libertà Non è solo quella Di rionessi O Di professare Una fede Ma la libertà È anche quella Di potersi Esprimere O E amare Come meglio Si crede Quindi Io porto il saluto La fondazione E faccio I miei auguri A Pessamossa Ai curatori E ringrazio Anch'io La provincia Di Forza Perché Siete Sì disponibili Perché Gli spazi Per poter Ospitare Quest'iniziativa Sono necessari Sempre di più Grazie E buongiorno Due parole Per dir Di chi Stiamo parlando Ho prego Direttamente La ruota Stiamo parlando Di uno Scandaloso Di un contraddittorio Di un incoerente Di un falso Di un ipocrita Di una checca Di un frocio Di un federasta Di un rinnegato Un indegno Un blasfema Un non regista Un illegibile reazionario Un mediocre Un pornografo Un pornografo Un lurido Sceneggiatore Un analfabeta Delle scene Un porno Poeta Stiamo parlando Di un delinquente Un reazionario Un menomato Un villano Un represso Un fascista Un marxista Un presuntuoso Un presuntuoso Un inquietante Ricchio Conservatore Un ribidinoso Un matto Un ambico Uno squallido Un Un uccidolore Un ripugnante Mostuoso Un aberrante Un diverso Un osceno Pervertito Un criminale Violento Perverso Un deformato Un irriverente Un disturbato Un demente Un malato Un pulattone Un pedofilo Un nostalgico Un represso Un manichè Un dogmatico Un cretino Un eretico Un miglantatore Un catto ipocrita Uno schipacchino Uno scomunicato Un sacrilego Un deprevato Un rissoso Un oppressore La picca finale Finalmente Ce lo siamo tolto Da piedi Questo confusionale Del silvo Anni 50 Lo ha scritto Un grande poeta Italiano Edoardo Sanguinetti Comunista Poeta Cinque giorni Dopo la morte Di Passolini Grazie Tutto questo È stato scritto Da uomini E non da donne Sui giornali Sulla stampa Sulla stampa Del lato Ancora oggi Abbiamo questo problema Faccio notare Sommersamente Che Avendo distribuito Alcune cartoline Qualcuno c'era Proprio Rifiutata Questo è accaduto E dire Quanto siamo bravi Quando siamo Quando siamo Perdi Invece Dovevamo avere Uno sguardo Diverso Uno sguardo Uno sguardo Non spuntato Perché poi Tra l'altro Fusaro Non lo è affatto Sfuntato Per cui Ancora oggi Dopo 47 anni Ci troviamo Di fronte A chi ci rifiuta L'intervento Diffusaro Vuol dire Che abbiamo Cogliato Nel segno Perché Questa era L'intenzione L'intenzione Era quella Di cogliere Nel segno Di avere Un trasversalismo Tanto è vero Che nella mostra Voi lo vedrete Vedrete Tutto ciò Che la sinistra Vuole vedere E anche Tutto ciò Che la destra Ci è andata A nozze Perché Il provita La frase Io Io sono Contro l'aborto L'hanno preso Hanno fatto Grandi manifesti 6 per 3 E dice Voi di sinistra Lo sapete Che Pasolini Diceva Che era Contro l'aborto Sì Probabilmente La frase Doveva continuare Sì Sono contro l'aborto Non contro la lente Sulla porta Perché sono Quei cose Completamente Diverse Allora Avevo 4 appuntamenti Con le scuole E ringrazio La dottoressa Che ci ha dato Veramente Una mano Perché Non essendo Cioè Giovanni La senzio E essendo di qua Ovviamente Non avremmo Potuto Essere qui Questa mattina Quindi I 4 appuntamenti Servono A restituire Ai ragazzi Il maltorto Noi Lavoriamo Sul maltorto Quindi 4 lezioni 4 lunedì Con gli istituti Tecnici E professionali E la scelta Non è casuale Non è casuale Perché Chi citava Ad esempio I film Della Duologia Greca Sarebbe stato Facile Per noi Ospitare Istituti Scientifici Il ficeo Classico Eccetera No Lo restituiamo A chi L'avrebbe restituito Pasolimica A quelli Che hanno Meno accesso Alla cultura Noi questa mattina Stiamo facendo Cultura Non stiamo Portando Cultura Perché Cultura Non si porta Se fa Grazie Grazie Applausi Non abbiamo vinto Ci vorrà Volerli intervistare Ecco Manca Manca Un elemento essenziale Il Presidente Manca un elemento essenziale L'Arci Che è quella Che ha prodotto Forsemente Questa nostra E tutto Il resto Dei Incontri Che sono Partiti E quindi L'Arci Come abbiamo Conunciato In particolare L'Arci Di Sansevero Di Sansevero Desicure Culturali La Signora Michela Buongiorno a tutti Michela Buongiorno a tutti Michela Presidente Dell'Associazione Eccetera Di Sansevero Affiliata Arci Siamo Un'associazione Giovanissima Abbiamo appena Un anno e mezzo Abbiamo una missione Culturale Ad ampio raggio E la cosa più importante Che ci siamo detti Fili al primo momento È stato proprio Di scegliere Una figura Professionale Per un direttore Artistico Perché abbiamo capito Molto Mimilmente Che avevamo bisogno Di una persona Che ci È stato Una Una Progettualità Culturale Con il curatore Della nostra Renato Piogano Nel discorso Quando C'è stata Curia Della nostra Centenario Pasolini C'è Un brato In tutti Lai E in tutto Il mondo C'è Un po' Dire Sì Senza Nessun Perjudizio Senza Nessuna Detologia Abbiamo detto Sì Facciamola Anche perché Abbiamo pensato Forse Forse Siamo anche 12 Nella 12 Accoggia E quindi È importante L'arrizzata Anche la Capitanata Questa Nostra Terra Che ha bisogno Di tanta Tanta Cultura E anche Di notizie Buone E positive E Senza Deo Non abbiamo Avuto Molto Di scontro Vabbè Ma Questo È Comitato Provinciale Al Cifoggio Domenico Rizzi E Chiede Aiuto È stato Dormito Dall'alme Che Domenico Rizzi Ha accolto Immediatamente E Scusate Scusate È stato È stato Un anno Molto Molto Pesante E Ce l'abbiamo Fatta Grazie Grazie Alla Grazie Alla Grazie Alla Grazie Alla Grazie Alla Alla Grazie Alla Provincia Di Foggia Alla Dottoressa Di Monta Il Presidente Perché Ci avete Dato Ci avete Accolto Accolto In maniera Speciale E Siamo Contentissimi Di aver Fatto Tutto Questo Per Gli Studenti Penso Che Sia Una Cosa Fondamentale Non vediamo L'ora Di fare Questi Quattro Inconti Speriamo Possano Venire Anche Da Sansevero Dalla provincia Ci aspettiamo Una Grande Partecipazione E Speriamo Che Tutto Questo Possano Ultimare Possano Dare Il Basi Per Future Collaborazioni Meglio Che Speriamo Due cose Essenziali Per Gli Agenti Stampa Il Progetto Prevede Il Convolgimento Della Magna Capitana Della Biblio Teca La Biblioteca Regionale Altaxese Delfico La Compagnia Teatrale Deliblioteca Piccola Compagnia Deliblioteca Piccola Compagnia Deliblioteca In più Da Milano Da Milano Abbiamo avuto Dalla Mondadori Una Richiesta Ufficiale Per Poter Vedere Un Banco Delibri Della Mondadori Questo Per Dire Che Se Facciamo Rete Con Le Realtà Del Territorio Le Cose Nascono Se Non Si Fa Rete Ci Si Va A Schiantare Grazie Di Essere Venuti Sì 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 Di cui Abbiamo Nessuto La Rosaludina Una Sinossi Curata Dal Centro Studi Pasolini Di Bologna E Una Foto Di Scena Locandina Foto Di Scena E Una Preve Sessione Ovviamente Quando Noi Parliamo Di Pasolini Con A Pop Non Possiamo Prenderlo Se Non Nelle Suoi Vices Sitture Questa Foto E Di Enrico Artie Bresson Uno Dei Più Grandi Fotografi E La Sulla Poi Lo Vedremo Più Più In La Pasolini Nella Sua Cosiddetta Roma Poi Abbiamo Le Donne Queste Le Donne Di Pasolini Che E' Stato Amato Tantissimo E' Stato Amato Tantissimo Ovviamente Non Quello Che Più Ha Voluto In Maniera Indissolubita La Callas Si La Callas Era Innamorata Persa Completamente Persa Lui In Effetti Era Innamorato In Vecano Di Donne Era Innamorato Di Giovanna Poi Tessa Ovviamente Non Poi Sosco L'unica Donna Che Ha Davvero Amato E' Stato La Donne Oltre Amare Ovviamente Ninetto Lui Era Innamorato Di Ninetto E Samorante Più Volte Glielo Ha Rimproverato Soprattutto In Quella Bellissima Lettera Lunghissima Che Gli Scrisse Il Giorno Dopo La Sua Morte Gli Rimproverava Stai A New York Esci Solo Per Comprare Le Camice Perninetto I Pantaloni Perninetto Il Giubbotto Perninetto Qui Quando Fu Espulso Nel 52 Fu Espulso Dal PC Perché Ebbe La Prima Poi Lo Vedremo Giù Delle Dei 33 Processi Che Subì L'accusa Era Quello Di Essere Andato Con I Ragazzini E c'era L'accusa Che poi Cadde Però Il PC Che già Ce l'aveva Qua Presente Subita Lo Espulso Lui Allora Quando Diciamo Icona Pop Chi è Illustrato Pasolini Pietoffolo Poli Tutti Questi Sono I Grandi Autori Illustratori Che hanno Disegnato E stanno Tuttora Disegnato Pasolini Questi Ci sono Tutti L'abbiamo Visto Fignoli Che sono Conosciuti Dai Ragazzi Sono Tutti Questo Può Essere Un Buon Tramite Adesso Si Piaceva Pasolini Si Si Piaceva Ed Eccolo Qua Questa Foto E' Stata Fatta Per Vogue Nella Sua Casa Questa L'ha Fatta Cannes Anche Al Vigneto Ci sono Delle Murales Infatti Gli Intellettuali Pasolini Ha frequentato Qualcuno Diceva Ma era Borghese No Non era Borghese Ma Per necessità Ha frequentato I salotti Borghesi Ma I salotti Borghesi Non li frequentava Perché Si sentisse Borghese Perché Dentro C'erano Gli Intellettuali Gli Intellettuali Che A parte Moravia Non lo Appoggiarono Nel 62 Quando Lui Era Nella Cinquina Per il Nobel Lui Scrisse Ebbe Questa Debolezza Di scrivere Ad alcuni Suoi Colleghi Poeti Per avere Il voto E non Lo Ebbe Con Calvino Ha avuto Una Una Dura Accesa Questa L'intervista Con Erza Pound A Venezia Shasha C'erano Ci sono più o meno Gli intellettuali Intorno Di Fili Esatto Bassani Ungaretti Zapaun Calvino Gadda Ciamaraini Naurabetti Moravia Fellini Visconti Anche con Visconti Non è Ebbene 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 A che Rudire Però Anche con Flaiano Stavallini Tutti insieme Nei giganti Questa Era La sua passione Il calcio Qui lo vediamo Con Morandi Nella partita Nella Nella Questa Partita Era La partita Tra Gli artisti E gli artisti Del Circo Strei Allo Stadio Flamminio Di Roma L'Istituto Luce Io sono andato A vederlo A Roma Un mese Fa Sono andato A vedere Proprio Questa Partita Che ha Registrato L'Istituto Luce Lui Era Il tifoso Del Bologna E' stato L'artista Più Fotografato E' stato L'interessore Più Fotografato Della Storia Italiana Questo E' Il suo Ultimo Scatto A casa Sua Lui Non Li ha visti Questi scatti Perché è morto Il giorno dopo Questi sono tutti I fotografi Che lo hanno Mi sembra Che Questa è la foto Di Avedon Aveva un cartier Questi sono Noi Ci sono Tutti Ed era In seguito Ovunque Lui Andasse Questi sono Tutti coloro Che invece Hanno scritto Su Pasolini De Andrè De Gregorio Mazzotti Fedez Baustel Caparezza Jax Farber Ecco perché Quando si I ragazzi Tipo questi Non so Arie Franco 126 Sono Attuali E quindi Infatti Non li conoscevo Però Ad esempio Sopra Abbiamo messo Pasolini Contro Capete Lunghi Sì Perché Poi Alla fine Pasolini Non era Non era Modernissimo In altrimenti Lo vedremo Qui Poi lo vedremo Anche Quando Il cartello Che è Coverto E qui Ci sono I processi Che ha subito Per censura I procedimenti Giudiziali Nel pediatra Dal 1947 Fino Ah Non lo so E sono 33 C'è una cosa Non mi ha accorto E' stato L'autore Più Processivo Più processivo Forse Solo D'Abusco E ora Lo stavo dicendo Ma lo volevo dire Lo volevo dire Non lo volevo dire Lo vedi Pintola Guarda Trovate Sul Unico E' stato E' stato Unico E' stato Unico E' stato Unico E' stato Unico 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 Saluto Arrivederci 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 Qui Di nuovo Questo Ok Questi sono I 33 processi Ne scaturisce quindi La necessità di Sottoforre il soggetto Ad accertamenti tecnici Alla fine di stabilire A. Se l'anomalia sessuale di cui Pasolini è affetto riveste o meno il carattere della infermità prevista dall'articolo 38 e 39 del codice penale, se tale infermità abbia avuto rilevanza del determinismo dell'azione delintuosa escludendo o scemando grandemente senza escludere la capacità di intendere e di volere del soggetto al momento del fatto. C. Se trattasi di persona socialmente pericolosa. Questo qui fu poi mandato sotto banco alle testate con la preghiera di non pubblicarlo, invece la pubblicarono tutti. Dopo c'erano anche i delatori. Questa lettera del 12 dicembre, esattamente un mese dopo che era morto, è greggio di lettori. Ha mai visto Pierpaolo Pasolini nell'atto di rimorchiare i maschi? Beh, io l'ho visto e posso assicurare che non era uno spettacolo molto edificante. Fu davanti a un bar del quarticciolo a Roma. Vedere quest'uomo così famoso che si atteggiava da artista e poeta, fustigatore dei costumi e della società dei consumi, abbordare giovani... E di queste lettere ne è pieno il mondo. Poi c'erano i giornali di destra che lo massacravano, capito? Pasolini condannato alla scambrosa... Dello specchio avrei dozzine di copie, tutte dedicate. Nel senso che questi non hanno capito che più lo detestavi, più ne amplificavi l'attenzione, capito? Più lo costruivi a che arrivassi fino ad oggi a noi. Non per caso, nella conferenza stampa, c'era un tavolo con la sua macchina, perché è ancora qua. Cioè, sta sotto quattro metri di terra, ma è ancora qua, capito? Qual è il messaggio, per chiudere, che volete dare ai ragazzi di oggi? Guardate che vi è stato tolto, l'unica rock star. Adesso ve lo raccontiamo noi, questo è il messaggio. Mandate bene, capito? Vi è stato sottratto qualcosa di cui voi potreste magari vantare, potreste scrivere, potreste musicare, potreste disegnare, come stanno facendo migliaia e migliaia di illustratori che tutt'ora ci sono quattro mostri di soli illustratori che illustrano solo Pasolini. Ci vediamo. Grazie.